secondo tutto sport di oggi 19 marzo 2024 allegri vorrebbe restare alla juventus anche senza rinnovo la prossima stagione sono cambiate le carte in tavola sono settimane se non mesi che allegri allude alla scadenza del suo contratto l'anno prossimo o un contratto per un altro anno come a dire a segnalare mi offrite il rinnovo per cortesia ed è stato anche molto più esplicito in altre situazioni anche per il tramite di altri tipo massimiliano galeone cioè giovanni galeone che è stato intervistato per l'ennesima volta ieri su gazzetta dello sport dicendo proprio nessuno ancora offerto un rinnovo a max giuntoli lo difende e lo elogia in pubblico ma in privato non gli parla quindi allegri passa dal volere quasi pretendere il rinnovo con tanti che lo difendono continuamente parlano in sua vece che lo definiscono come uno che ha raggiunto gli obiettivi e che si merita il rinnovo al dire no vabbè anche senza rinnovo se mi tenete sono contento lo stesso questo almeno è quello che ci scrive è quello che ci dice tutto sport facendo un'analisi in cui analisi per modo di dire in cui si parla comunque del raggiungimento degli obiettivi quindi l'importanza di raggiungere la champions quindi non è il momento di criticare allegri non è il momento di pensare a esoneri rivari perché c'è questo questa urgenza impellente della qualificazione la champions non si vadano a toccare gli equilibri come se il rischio di mancata qualificazione la champions dipendesse eventualmente da chi critica e non da allegri che sta lì eventualmente per lavorare facendo quindi passare il messaggio che appunto allegri avrebbe diritto a restare cioè allegri deve restare e si scrive in questo senso provando anche un po' a spaventare i tifosi che effettivamente la dirigenza è disposta a tenere allegri almeno fino a giugno ma una frase del genere non ha alcun senso un anno fa si sarebbe anche potuto dire la dirigenza la società vuole tenere allegri almeno fino a giugno perché poi ci sarebbero stati altri due anni di contratto e quindi quel almeno avrebbe significato fino a giugno e poi magari un altro anno senza farne due ma adesso con un solo anno di contratto dire almeno fino a giugno significa dire resta pure l'anno prossimo ma se resta pure l'anno prossimo e ne si è certi adesso di cosa stiamo parlando evidentemente non c'è certezza della permanenza di allegri come tante altre fonti giornalistiche riportano da settimane e da mesi facendo anche esplicitamente il nome di tiago motta come designato già designato nuovo allenatore della juventus a partire dalla prossima stagione allora ci si chiede ma a quale dirigenza si riferisce tutto sport quale dirigenza della juventus tutto sport ha interpellato per scrivere che sarebbero comunque disposti a tenerlo fino almeno fino a giugno e che lui vuole restare anche senza rinnovo e che eventualmente ci sia la disponibilità della dirigenza di tenere appunto allegri anche senza rinnovo anche perché se nel frattempo si parla su altri giornali di giocatori che avrebbero detto che comunque la squadra segue l'allenatore evidentemente si cerca di smentire qualche altra voce e si parla invece di una dirigenza spaccata e comunque giuntoli non parla con allegri o se gli parla non gli ha offerto il rinnovo quale dirigenza può aver deciso di tenere allegri o di non rinnovargli il contratto e tenerlo comunque fino a scadenza la dirigenza che va in scadenza questo giugno possiamo parlare di una dirigenza della juventus o di più dirigenze visto che c'è una spaccatura e la dirigenza che ha un contratto ben oltre questo prossimo 30 giugno e anche ben oltre il 30 giugno 2025 è quella che conta è quella che decide o decide chi tra poco non sarà più dirigente della juventus al di là delle schermaglie al di là delle frasi e delle notizie riportate che si fa fatica a capire quale fondamento abbiano la cosa importante è che i tifosi della juventus non si facciano prendere in giro e cerchino di capire che molte delle notizie che vengono pubblicate hanno proprio uno scopo politico di smuovere una determinata situazione e di andare a toccare determinati equilibri quindi se si scrive la dirigenza vorrebbe tenere allegri anche senza rinnovo non significa che è veramente così ma che si sta cercando di fare un'azione di forza o comunque di smuovere la situazione in una certa direzione perché la dirigenza prenda un'altra posizione e questo è molto più chiaro se si scrive che allegri è disposto a restare anche senza rinnovo vuol dire che è evidentemente disperato e che sa che è probabilmente già fuori e sicuramente il rinnovo non esiste così è fino ad oggi seguiranno aggiornamenti grazie a tutti